buongiorno bianconeri e bentornati giovedì 26 agosto 2021 c'è tanto da dire ho intitolato questo video per aspera ad astra è latino che cosa significa significa attraverso le asperità le difficoltà arriveremo alle stelle questo vuole essere di buon auspicio per tutti gli juventini vi spiego che cosa intendo dire ovviamente l'argomento è cristiano ronaldo ieri sera mendes agente di ronaldo ha fatto questo blitz a torino inaspettato a quanto pare per chiedere la cessione di ronaldo questo è quanto è trapelato dai giornalisti che ieri sera hanno cercato in maniera ottima devo dire facendo il loro lavoro di darci più notizie possibile ancora una volta ancora una volta notizie che sono piombate dalla soprattutto tra le 11 e le 2 di notte quindi ancora una volta abbiamo dormito poco perlomeno noi che cerchiamo sempre notizie soprattutto noi youtuber che dobbiamo per necessità essere sempre aggiornati in tempo reale per potervi fare dei contenuti ora vi riassumo un po qual è la situazione in questo momento sto registrando è mezzogiorno non c'è ancora una offerta ufficiale da parte del manchester city alla juventus però mendes oggi si incontrerà con la juve quindi magari ora che guardate questo video avremo già delle risposte avremo già più informazioni ovviamente quando ci saranno informazioni aggiuntive sarò pronto a parlarvene tra l'altro questa sera alle ore 18 c'è il sorteggio dei gironi della champions league io sarò in live quindi buona occasione per essere connessi qui sul mio canale così possiamo parlare direttamente insieme in diretta mentre guardiamo sostanzialmente i sorteggi delle novità riguardo a cristiano ronaldo ora la situazione sembra essere questa il manchester city offre a ronaldo un biennale da 15 milioni netti a stagione giornali come l'equip o come il sun dicono che il city potrebbe dare come contropartita bernardo silva e la port alla juve perché non sono disponibili a darci 30 milioni cash è una cosa paradossale secondo me hanno appena speso 117 milioni per grillish che secondo me ne vale meno della metà e fino a ieri volevano spendermi 120 150 per harry kane del tottenham kane che proprio ieri casualmente ha postato sui suoi social praticamente dicendo confermando che starà al 100 per cento al tottenham quindi sfumata sfumato l'obiettivo numero uno di guardiola che era kane io credo che a quel punto hanno fatto o cerchino di fare all in su cristiano ronaldo la juventus cosa aspetta la juventus guarda e ovviamente ha le sue necessità però cioè sa che cristiano ronaldo se vuole andare che vada pure però la juve ha delle necessità che sono o mi dai almeno 30 milioni per non fare la minusvalenza o mi dai dei giocatori in cambio che mi servono per esempio la port difensore spagnolo la juve pare non lo voglia bernardo silva è un ottimo centrocampista ma siamo sicuri che ci serve quel tipo di giocatore perché è più un trequartista che un centrocampista di linea e poi la juve vorrebbe a quanto pare gabriel jesus come punta che può giocare anche come seconda punta è molto poliedrico come ragazzo ma è brasiliano quindi per ingaggiare gabriel jesus la juve deve prima cedere un extra comunitario il più papabile potrebbe essere weston mckennie che abbiamo ne abbiamo parlato in questi giorni insomma c'è quasi una rottura all'interno della società pare che la condotta il comportamento e le abitudini anche alimentari di mckennie non siano soddisfacenti per la juventus e quindi si è fatto il nome di witzel del borussia dortmund come eventuale sostituto di mckennie quindi insomma io ho cercato di darvi tutte le informazioni possibili ma penso che siate a conoscenza perché so che siete bravissimi a reperire queste informazioni anche voi sui social e su telegram per esempio ora perché ho intitolato per aspera ad astra voi sapete che negli scorsi giorni anche soprattutto nelle live che ho fatto io ho sempre detto che fino a che il mercato non finisce fino alla sera del 31 agosto io la mano sul fuoco che cristiano ronaldo rimanga la juve non ce la posso mettere perché non posso essere sicuro può succedere di tutto ho anche detto ieri per esempio in un mio video io scommetto un euro che cristiano ronaldo rimarrà la juve per questa ultima stagione perché ho detto questo a costo di sbagliarmi e al massimo questo euro lo perdo anzi lo darò in beneficenza perché perché ovviamente più passa il tempo e più è meno probabile una uscita di ronaldo dalla juve mancano solo cinque giorni alla fine del calcio mercato per aspera ad astra quindi attraverso le asperità arriveremo alle stelle perché ragazzi io so che tra di voi c'è tanta gente che pensa a una visione totalmente diversa dalla mia io questo lo posso accettare a meno che proprio non si dicano delle cose sbagliate sbagliate quindi io i pareri diversi li rispetto ma quando sono basati su informazioni errate ovviamente no io so che molti di voi non hanno mai amato cristiano ronaldo so che molti di voi lo amano perlomeno gli piace cristiano ronaldo ma pensano che la sua cessione sia inevitabile sia utile per sbloccare un po di soldi e sbloccare un mercato questa è già una seconda posizione che prendete e c'è chi invece si avvicina alla mia posizione cioè cristiano ronaldo è uno dei migliori giocatori della storia del calcio è stato un onore averlo alla juventus peccato per questi ultimi tre anni che sono stati secondo me non eccellenti per la juve per due motivi uno per le scelte societarie perché è vero che abbiamo fatto degli ottimi acquisti come delicto come chiesa per esempio ma abbiamo fatto anche tanti pessimi acquisti abbiamo mal assemblato la rosa in questi tre anni quindi buoni giocatori ma allestiti male e soprattutto le scelte tecniche tre anni di ronaldo con tre allenatori diversi senza continuità mandi via marotta che era uno dei migliori di esse amministratori delegati del calcio italiano eccetera eccetera queste sono scelte sbagliate da parte della juve e poi purtroppo le diciamo cose inevitabili c'è la situazione della pandemia che ovviamente ha condizionato soprattutto da un punto di vista economico con la chiusura degli stadi e con degli introiti azzerati se non addirittura sotto zero cosa che quindi ha bloccato lo sviluppo della juventus con ronaldo questo è un po' il mio pensiero quindi rimarrà sempre il rimpianto qualora ronaldo andasse via adesso ancora non abbiamo questa certezza ragazzi stiamo monitorando insieme la situazione stiamo vedendo se il city fa un'offerta seria se la juve l'accetta altrimenti se non va via quest'anno andrà via comunque l'anno prossimo questo è un discorso generale che voglio fare io avrò sempre il rimpianto di non aver avuto una grandissima juventus in questi tre anni con cristiano ronaldo perché attraverso le avversità arriveremo alle stelle perché io sono grande abbastanza per aver visto una juventus perdere giocatori chiave come platini, come baggio, come del piero, come nedved come treseguet, come buffon, come cannavaro giocatori sensazionali considerati tra i migliori del mondo eppure la nostra juve è sempre andata avanti si è sempre ricostruita ha anche vinto senza i grandi campioni vinceremo anche senza cristiano ronaldo io quello che voglio dire è questo secondo me la juventus cristiano ronaldo e jorge mendes ne escono male ma male ma male da questa situazione che è questo che mi sta irritando perché siamo arrivati al 26 di agosto col campionato già iniziato ok e a quattro giorni dalla fine del mercato il ronaldo sta spingendo per andare via che vergogna ronaldo ne esce male è da aprile che vuole andare via ha passato dei mesi tramite il suo agente a proporsi in giro per mille motivi nessuno gli ha mai fatto un'offerta concreta perché bene o male erano tutte a posto il pari san germain ha fiutato da mesi la pista messi e poi si è buttato a capofitto appena ha potuto prenderlo perché giustamente messi è un'istituzione diversa ha anche un paio d'anni in meno di ronaldo e quindi va bene così hanno preferito messi a ronaldo anche perché hanno un bappé col sette proprio lì e quindi era sicuramente più coperta con la posizione di campo ronaldo si è proposto ma a poche squadre poteva interessare la situazione poteva interessare ingaggiare ronaldo a 36 anni dandogli un sacco di soldi eccetera eccetera beh se Mendes è venuto a Torino è perché probabilmente ha un'offerta in mano oggi scopriremo le carte sapremo che cosa vorrà proporre alla Juve io dico solo questo noi stiamo dalla parte della Juve lo dico sempre quando tra di voi c'è chi ama Dybala e offende la società chi ama ronaldo e offende la società io amo la Juve io dei giocatori me ne frego altamente chiunque essi siano perché il bene che voglio io e per quanto riguarda me è la Juventus che ho sempre tifato dal 1980 prima volta allo stadio 87 con Marchesi in panchina una Juve che faceva cagare eppure io ho tifato Juve fino al 95 che abbiamo vinto lo Scudetto perché siamo stati nove anni senza vincere niente nel 95 abbiamo vinto lo Scudetto e da lì Epocalippi e la storia la conoscete quindi chi come me ha tifato Juve quando non vincevamo nulla eccetera o anche i più giovani di voi che hanno visto la Juve in B e l'abbiamo tifata lo stesso tiferemo la Juve ancora di più senza Cristiano Ronaldo io però mi auguro solo che la Juve non si faccia fregare si faccia trovare anche preparata che abbia già un'idea di con chi sostituire Cristiano Ronaldo e di come riorganizzarsi da un punto di vista tecnico da un punto di vista di immagine perché certo perdere un Ronaldo per prendere nessuno è una sconfitta anche a livello di brand una sconfitta a livello di marketing al di là se poi senza Ronaldo con un paio di innesti diversi andiamo a vincere cose che con Ronaldo non abbiamo vinto quello è tutto un altro discorso e ovviamente è una roba che ci auguriamo però sarete tutti d'accordo con me anche chi di voi non ama particolarmente Ronaldo però Ronaldo ci ha dato un lustro e una crescita di immagine di brand nel mondo pazzesca e questo è fuori discussione quindi ora come ora un sostituto degno di Cristiano Ronaldo sul mercato non c'è o se c'è non è abbordabile per la Juventus siamo d'accordo anche su questo quindi sono curioso quanto vuoi di capire nel caso ripeto che Ronaldo lasci la Juve adesso fatto salvo le conclusioni che abbiamo tirato cioè che la Juve ma soprattutto Ronaldo il suo entourage ne escono malissimo perché non si arriva al 26 di agosto a campionato iniziato a mendicare una cessione e trattare su cifre contropartite secondo me è tardi tra l'altro questa cosa secondo me bisogna iniziare ragazzi mentalmente a uscire da un mood che è quello delle frasi fatte dei preconcetti abbiamo detto tutti per mesi Ronaldo non può andar via in pochi giorni perché è un'azienda e servono mesi a quanto pare a quanto pare non è più così è vero che Ronaldo sono mesi che prova a proporsi in giro perché ormai lo sanno pure i muri però ormai questo paradosso questo paradigma chiamatelo come volete che Ronaldo bisogna ci vogliono due mesi di trattative di precontratti per farlo muovere è falso non vale più si sposterà Mbappé forse si sposterà Ronaldo si è spostato Messi e non sono serviti mesi e mesi e mesi forse Messi insomma un po' di accordi precedenti col PSG per me nessuno mi toglie dalla testa che c'erano allora ragazzi per aspera ad astra la Juve risorgerà senza problemi dormiremo sereni nella notte la nostra squadra troverà la quadra assolutamente sì mi dispiace perdere Ronaldo severamente va via adesso per i motivi che vi ho spiegato tre anni secondo me purtroppo gestiti male e sfortunati col covid che ci ha segato le gambe in un momento che secondo me la Juve avrebbe potuto costruire uno squadrone ancora più forte ancora più forte ma non abbiamo potuto farlo perché la nostra economia si è totalmente incriccata allora ragazzi si parla di tante cose no ve l'ho detto scambi Bernardo Silva Gabriel Jesus c'è di mezzo il discorso McKennie Witzel che ovviamente è collegato per il discorso dello slot extracomunitario aspettiamo novità vi aspetto questa sera alle 18 in live sul mio canale per guardare insieme i sorteggi della Champions e nel frattempo parlare delle ultime news su Cristiano Ronaldo ci vediamo molto presto e sempre forza Juve e e Grazie a tutti.